Buongiorno, mi preme dirvi che in questi tre giorni abbiamo parlato di tutto il prezioso lavoro che noi facciamo con i bambini, la scuola e i genitori e adesso vi dovrei solo accennare un po' quello che è il grande lavoro che facciamo anche con gli adolescenti e quindi cercherò di farvi arrivare quello che per noi è importante. Gli adolescenti di oggi sono i cosiddetti nativi digitali e sono cresciuti con un'idea di comunicazione immediata e diretta che taglia fuori l'attesa e le emozioni dell'incontro con l'altro. Sono ragazzi che sono convinti di avere tanti amici perché hanno tanti contatti su Facebook e sui diversi social network e poi però non riescono a trovare una persona con cui passare un pomeriggio per prendere un gelato. L'apporto delle nuove tecnologie ha portato i ragazzi ad un'autocostruzione del sapere e che fa sentire questi ragazzi estremamente emancipati e disinvolti ma poi sono pieni di paure. 9 adolescenti su 10 usano internet, i ragazzi fra i 12 e i 14 anni usano internet da un'ora a tre ore al giorno e l'80% di loro ha il profilo su Facebook. Quello che vi accennavo prima è la loro praticamente, per molti di loro è gran parte della vita relazionale. I ragazzi che vengono in terapia richiedono generalmente di essere ascoltati, ascoltati in un modo autentico, di ricevere delle informazioni dove non si intende solo nozionistica ma vissuti anche, informazioni relative a esperienze. La condivisione, la condivisione con l'altro che non sia solo il terapeuta ma che è anche il gruppo dei pari. Più avanti vi spiegherò, noi lavoriamo tanto, ve l'aveva accennato anche ieri la dottoressa Di Renzo. Per noi il punto di forza è un lavoro all'interno di un gruppo di terapia e lo facciamo anche con gli adolescenti. E altro aspetto significativo che ci richiedono i ragazzi è quello di ricevere un contenimento, delle regole, un limite che sempre più a loro manca nella vita quotidiana. Vi accenno brevemente tematiche che sono già state comunque toccate anche dalla collega perché c'è una stretta correlazione tra l'ascolto che viene fatto nello sportello, nelle diverse scuole e la necessità di intervento poi per quei ragazzi che vengono segnalati come ragazzi problematici. Sono ragazzi, quelli che vengono quindi in terapia, che ci portano problemi di ansia. Sempre più vediamo che l'ansia caratterizza qualsiasi esperienza che questi ragazzi vanno a vivere. Sono ragazzi con una scarsa autostima sulla quale dobbiamo tanto intervenire per poter far sì che arrivino a conoscere prima le diverse potenzialità che questi ragazzi hanno e a utilizzarle nel migliore dei modi invece nel loro percorso di crescita. Sono forti le insicurezze relazionali, sono ragazzi che hanno un'immagine corporea negativa di se stessi e che presentano spesso disturbi alimentari significativi. Sono ragazzi che vivono una forte solitudine e che sono contenti di poter trovare in quei 50 minuti settimanali, se parliamo di un lavoro individuale, o un'ora e 40 se parliamo di un lavoro di gruppo, delle persone che stanno lì ad accoglierli, ad aspettarli e presenti sempre per dargli la giusta attenzione. presentano problematiche sull'uso e l'abuso di alcol e sostanze. Diversamente da prima si sta tanto evidenziando il problema dell'alcol, più delle sostanze stupefacenti, perché l'alcol non è più visto dai ragazzi, dagli adolescenti come un qualcosa di trasgressivo, ma è un qualcosa che gli permette di affrontare le varie situazioni della loro giornata senza pensare e senza vivere emotivamente quello che vanno a vivere, come se si anestetizzassero attraverso l'uso dell'alcol. E la cosa che ci sta sconvolgendo in terapia, vediamo, è che ci viene raccontato che questi ragazzi ricorrono all'alcol anche in situazioni inimmaginabili, la mattina prima di andare a scuola. E questo, insomma, ci deve far riflettere. Sono ragazzi che hanno paura di crescere, che sono preoccupati per la situazione socio-economica del nostro paese e spesso sono ragazzi che ci portano tematiche di violenza psicologica o fisica vissuti o nella loro dinamica familiare o a scuola. Sono ragazzi che ci portano anche problematiche familiari. Come accennava prima la mia collega, la dottoressa Ferrazzoli, sono ragazzi che anche allo sportello parlano di difficoltà nel rapporto e nella comunicazione con i genitori, tematiche di separazione e convivenza in famiglie allargate. O, cosa che mi preme tanto sottolineare, è che sempre più ci stiamo ritrovando a vedere ragazzi che parlano, dopo aver superato le resistenze dell'imbarazzo e della vergogna, di problematiche relative a disturbi psichici dei propri genitori, non sempre curati. Le problematiche scolastiche sono, diciamo, non sto qui ad elencarvele, sono le tematiche per cui spesso i genitori richiedono un intervento scolastico e terapeutico perché è il sintomo che in modo eclatante preoccupa la famiglia, ma dietro a questi sintomi in realtà poi ci sono disagi di ben altra natura e che nel percorso psicoterapico noi andiamo ad affrontare, proprio per dar modo ai ragazzi di affrontare questa difficoltà. Allora, come abbiamo già detto, vengono somministrati agli adolescenti questionari. L'importanza per noi di ripetere, di riparlare di questi questionari sta nel fatto che si sono evidenziate delle tematiche significative. L'EDI è un questionario che viene utilizzato per l'autovalutazione che permette ai ragazzi di delineare i tratti psicologici, i sentimenti, i comportamenti rilevanti nella comprensione del disturbo di alimentazione. Che vuol dire? In terapia ricorriamo, oltre che quindi nelle scuole, ricorriamo all'utilizzo di questo questionario perché ci permette di parlare con i ragazzi di quelle che sono le tematiche, le problematiche che vivono rispetto alla loro emotività. Mi spiego meglio. Dai vari questionari è evidenziato che esistono insoddisfazioni significative per il proprio corpo e paure specifiche per le malattie e tematiche di impulsività. Sono tutti aspetti che poi noi nel lavoro psicoterapico andiamo ad approfondire e favoriamo il cambiamento. Allora, l'EDI lo abbiamo somministrato a ragazzi tra i 12 e i 20 anni e abbiamo visto che l'insicurezza sociale è una delle tematiche significative che i ragazzi presentano a quest'età. Riflettendo con la dottoressa Di Renzo ragionavamo sul fatto che questo era un problema che caratterizzava i ragazzi in età più avanzata prima. Adesso si sta abbassando tanto la fascia d'età. Questa insicurezza per quello che è il ruolo sociale va a colpire i ragazzi sempre più giovani e questo secondo noi non è da attribuire a problematiche specifiche dei ragazzi, del singolo individuo quanto al fatto che ci siano sempre più rapporti virtuali non reali, non concreti e quindi il confrontarsi poi in un ambito sociale rappresenta una fonte di grande ansia. Un altro questionario che abbiamo somministrato ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni è quello che va ad indagare il rapporto tra la vita sessuale e l'affettività. Cosa abbiamo riscontrato? che è sempre più netta l'ascissione tra l'affettività e la vita sessuale. I ragazzi arrivano a fare esperienze sessuali trattandole come se fossero dei riti di iniziazione e lo vivono come un gioco trasgressivo fatto in un totale stato di incoscienza. ritorna qui il tema dell'uso di sostanze di alcol spesso completamente ubriachi abbiamo ragazzi che ci raccontano di fare esperienze in contesti inusuali in situazioni in cui non ricordano neanche come sia accaduto l'evento e con quante persone. Quindi questo ci fa riflettere sul fatto che sono aumentati i comportamenti sessuali a rischio. Il 70% dei giovani ha esperienze sessuali senza alcun coinvolgimento sentimentale e l'85% preferisce parlare di amicizia sessuale e non di amore. Velocemente vi dico il 48% di ragazzi manda messaggi con riferimento al sesso il 41% vede e riceve immagini o video a sfondo sessuale il 25% si scambia immagini su parti intime il 40% dà il proprio numero di telefono a persone conosciute in internet quindi sappiamo quali rischi si possono correre il 22% ha esperienze sessuali con persone conosciute in rete e il 76% si reputa consapevole dei rischi. In realtà che cosa vediamo noi? Che il 90% dei giovani di ambo i sessi si ritiene informato e maturo per poter affrontare questa esperienza e quindi la mettono in atto il problema poi è che successivamente denunciano stati di angoscia e paure per malattie e gravidanze indesiderate a dimostrazione proprio del fatto che non viene considerata completamente quella che è la parte affettiva e che poi però si fa sentire. Allora abbiamo nominato prima il questionario sul quaziente emotivo ci preme ripresentarvelo per poter dire che stanno emergendo dei dati significativi cioè una ricerca fatta su 2690 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado a Roma a ragazzi quindi tra gli 11 e 18 anni ha evidenziato che il rapporto tra la sfera emotiva dell'individuo e l'ambiente circostante evidenzia problematiche su aree intrapersonali interpersonali capacità di adattabilità alle varie situazioni gestione dello stress e umore genitoriale sì genitoriale scusate e umore generale che cosa quelle sono le varie aree su cui noi andiamo a fare praticamente indagini su quello che è il vissuto dei ragazzi ed è emerso che cosa che i ragazzi riconoscono e comprendono le emozioni proprie altrui come vi diceva prima la dottoressa Ferrazzoli e però che cosa abbiamo riscontrato che vi sono delle difficoltà a controllare in modo specifico le proprie emozioni e questo lo vediamo quando in terapia ci vengono i ragazzi pieni di tagli e la settimana scorsa mi è venuto anche un ragazzo che si era bruciato perché doveva assolutamente dar voce a quello che era il suo stato di angoscia che lui provava e che non riusciva ad esprimere in alcun modo e quello è stato il suo modo per poter far vedere ai genitori alla famiglia che lui stava male perché non lo riusciva comunque a comunicare in altro modo naturalmente in terapia dobbiamo aiutarlo ad andare oltre a trovare dei mezzi di comunicazione e di espressione del disagio ben diversi ed altra riflessione evidenziata attraverso questo questionario è il fatto che questi ragazzi non riescono a resistere a situazioni avverse e stressanti senza cadere a pezzi sono ragazzi che passano da una sensazione di onnipotenza in cui si sentono di poter fare di tutto a vissuti di totale impotenza nel momento in cui vengono messi di fronte ad una frustrazione e qui anche ritorniamo a quel discorso che si faceva nei giorni addietro in cui dicevamo che non sono abituati i nostri bambini a vivere delle frustrazioni a tollerare delle frustrazioni e se non li aiutiamo sin da piccoli come possono imparare a farlo da adolescenti quello che stiamo riscontrando è che questi ragazzi sono ragazzi che non sono privi del supporto familiare le famiglie ci sono ma non sono sempre capaci di dare il giusto contenimento emotivo e comunicare in un modo autentico ai loro figli in conclusione quindi l'istituto come cerca di ovviare a tutto questo offrendo degli spazi dedicati ai ragazzi ai genitori e ai genitori e ragazzi insieme che siano offerti in modo specifico in funzione di quello che è il momento evolutivo del ragazzo e il bisogno specifico del ragazzo quindi offriamo interventi individuali quando dove c'è quindi un lavoro tra psicoterapeuta e adolescente nel momento in cui vediamo che il ragazzo o deve essere preparato a entra a far parte di un lavoro psicoterapico di gruppo o perché non ce la fa proprio ad ipotizzare di avere un confronto con altri pari oppure a conclusione di un percorso psicoterapico di gruppo quando abbiamo talmente affrontato tematiche significative insieme ai pari che è importante magari dare un'attenzione specifica ad alcune tematiche per quel singolo ragazzo per cui si può concludere con un breve ciclo di terapia individuale il cancelling genitoriale è inutile che vi ribadisco quanto è già stato detto e invece una cosa importante che mi prevedirvi è che non operando con interventi standardizzati ma cercando sempre di dare quello che serve alla famiglia e ai ragazzi arriviamo a fare anche interventi genitore figlio per cercare di favorire quel confronto quel dialogo tra loro che è tanto necessario ad entrambe le parti e che non sempre riesce a essere svolto in un modo funzionale il lavoro in gruppo il gruppo di terapia quindi cosa offre dei contesti protetti in cui l'adolescente sperimenta l'ascolto la relazione e il confronto con l'altro dove per relazione intendiamo una relazione reale dove possano sperimentare veramente il guardare in faccia l'altro il vedere che cosa l'altro prova nel momento in cui io dico un qualcosa che può ferirlo e quindi avere un rispecchiamento di quello che in modo diretto accade nel setting terapeutico facendo questo i ragazzi arrivano anche quindi a contattare i propri vissuti non solo quindi contagiati da quello che dice l'altro arrivano poi a pensare a quello che stanno vivendo e a scoprire parti di sì che naturalmente non erano riusciti a conoscere prima di questo percorso gli vengono forniti strumenti per tollerare e gestire le frustrazioni che abbiamo detto che è un problema tanto diffuso insomma tra gli adolescenti e la cosa più significativa con la quale mi piace chiudere questo intervento è dire che viene dato un piano di pensabilità che allontani gradatamente l'adolescente dall'agire impulsivo per cui è arrivato in terapia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti